L'orgoglio Agropoli ha scosso gli isolani per i primi due quarti dove i ragazzi di Coach Lepre hanno comandato con ritmo ed emozioni martellanti, poi la supremazia dei padroni di casa che hanno avuto la meglio. 75-62 il risultato della semifinale tra Forio di Ischia e New Basket Agropoli, giocata ad alti ritmi e favolose intuizioni degne di un gioco, quello del basket che non finisce mai di stupire. Forio, squadra di elevata sportività e correttezza con grandi campioni e carattere da vendere. New Basket Agropoli, compagine di giovanissimi che hanno dimostrato di essere grandi, di saper soffrire, di saper perdere, ma anche di rialzarsi e ricominciare a combattere. Riconoscenza, la parola giusta ad una società guidata da Angelo Farese che in punta di piedi durante il campionato di Serie C Gold si è evoluta costantemente, senza troppe pretese, riuscendo a guadagnarsi la testa di Serie, mettendo paura ad avversari temperati ed esperti, non ricevendo nessun favore da arbitri o federazione. L'insegnamento di Coach Lepre che, con poche risorse, costruisce ponti con la sua lavagnetta e le capacità di chi il basket lo vede prima di tutti, generando valore aggiunto nei suoi ragazzi, facendoli diventare uomini. Nessun rammarico, nessuna amarezza. Le giocate della New Basket Agropoli hanno svegliato il tempo, fermo a causa di un Covid minaccioso ed oscuro. Loro non hanno avuto paura, non hanno esitato, hanno alzato la testa e iniziato a camminare. Insieme a dirigenti e accompagnatori si sono immersi in un vortice senza certezze, subendo continui controlli fisici e insidiosi stress psicologici, senza mai lamentarsi, ma con coraggio e determinazione. La loro iniziativa ha acceso gli umori, spinto le speranze e riscaldato il cuore. Grazie New Basket Agropoli